Pageremo pari, siamo un prevenno delle bradaglie che ci prepari tu Par colpa tua metà degli uomini è sotto comanda col mal di fronte Così troverò il mio amico Gink Ora è il momento della mia mossa speciale Sagittario a figlio di fuoco, vai Non potete, ho ancora un po' di paga Sul mento qui, guardate Andiamo L'amore che ci tiene molto agli amici, si preoccupa per loro. L'ha dimostrato oggi sul treno quando parlavamo di Gina. Era talmente triste che aveva le lacrime agli occhi. Quando arriviamo a Conamura facciamo la pace con lui. Certo, per me va bene. Allora cerchiamo di batterlo sul tempo, d'accordo? In marcia!